Eh sì, lo sappiamo, i vaccini sono l'unico modo per uscire sia dalla pandemia che dalla crisi economica, ce lo ricordano anche gli economisti, questo è ciò che ha detto Banca Italia ieri in Parlamento in aduizione per il DEF, insomma se la campagna di vaccinazione andrà bene, se rispetterà gli obiettivi, effettivamente sarà possibile una crescita del PIL superiore al 4% per quest'anno. Vediamo allora se nei paesi che sono più avanti con le vaccinazioni, quindi parliamo soprattutto di Israele, del Regno Unito e anche degli Stati Uniti che hanno dei tassi di vaccinazione molto più alti del nostro se effettivamente loro stanno già notando dei miglioramenti dei dati economici. Allora andiamo a vedere i dati PMI, questi si chiamano i dati PMI, sono i risultati di sondaggi fatti a manager d'azienda, in questo caso parliamo dei ristoranti, dei servizi, dei ristoranti, dei bar, dei negozi. Ebbene se questi dati sono superiori al livello di 50 vuol dire che c'è un miglioramento rispetto al mese prima, se sotto invece vuol dire che c'è una decrescita. Vediamo Regno Unito, barra azzurra, il primo dato positivo da settembre è quello di aprile, 56,3. Negli Stati Uniti invece, barre bianche, vediamo un trend crescente, quindi diciamo ci sono dei segnali incoraggianti da questo punto di vista, questi sono davvero i dati più freschi e che ci dicono il trend, i trend più nuovi da questo punto di vista. Su Israele non abbiamo questi dati ma abbiamo i numeri sulla spese con le carte di credito, quindi le spese che si fanno nei negozi. Ebbene vediamo che rispetto a gennaio 2020, a inizio aprile, abbiamo avuto un record dall'inizio della pandemia e anche questo ci fa ben sperare appunto per la crescita economica in Israele. Da un punto di vista più macroeconomico invece vediamo quest'ultimo cartello, crescita del PIL nel 2021, potrebbe sembrare difficile ma non lo è. Vediamo, Stati Uniti, Regno Unito, Israele, Francia e Germania, abbiamo le stime di gennaio e le stime di aprile. Cosa vuol dire? La stima di gennaio appunto quando il Fondo Monetario Internazionale ha pubblicato le stime del PIL per il 2021 a gennaio, inizio anno. Aprile invece sono i pallini gialli, sono le ultime stime, quindi le stime più aggiornate. Per tutti c'è stato un miglioramento ma il miglioramento più netto è stato appunto per i paesi che hanno un maggior numero di vaccinazioni, USA, UK e Israele, che superano tutti e tre la media della crescita, del miglioramento delle stime dei paesi avanzati. Vediamo invece che Francia e Germania, quindi paesi europei che ben conosciamo, hanno avuto degli incrementi delle loro stime più ridotti. Quindi dati che fanno me sperare, speriamo appunto che anche noi, quando arriveremo a quei tassi di vaccinazione, potremo avere queste stime. A te.